Ciao gente, oggi per voi farò le creme fritte. Come farle? Adesso vi faccio vedere da me. Scaldiamo il latte in un pentolino. In una bowl mettiamo 6 rossi d'uovo, lo zucchero semolato, un cucchiaio di aroma da vaniglia, mescoliamo per bene e aggiungiamo la farina. A piacere grattugiata di limone fresco. Crematizziamo per bene. Appena prende il bollore il latte ne mettiamo metà nella crema. Mescoliamo per bene e lo aggiungiamo di nuovo nel latte caldo. Rifacciamo prendere il bollore finché diventa una crema densa. Una volta pronta la facciamo riposare in uno stampo per ben 4 ore. Passato il tempo la tagliamo a fette. Le passiamo una alla volta nell'uovo sbattuto, poi nel pan grattato e quindi le friggiamo in olio bollente. Devono diventare croccanti e ben dorate. A piacere poi possiamo servirle con panna montata, lamponi freschi, cioccolato fondente e una bella spolverata di zucchero. Sì o no? Ma quanto buona a sé! Massa buona!